Sarà un'estate calda e non per le condizioni meteo per il sindaco di Cava dei Terreni due le tematiche che minacciano di turbare le sue vacanze. La prima e più scottante è senza dubbio quella che riguarda la sorte dei dipendenti ex seta che dovrebbero essere assorbiti nella società in aus del comune Metellia. La permanenza dei lavoratori ex seta all'interno della società Metellia se non c'è una rideterminazione del costo del personale non è ammissibile per legge perché la legge impone dei limiti al costo complessivo del personale del comune e delle sue partecipate. L'intesa con i sindacati per la riduzione di questo costo del personale che pur era possibile non si è trovata per il momento non ci sono alternative giuridicamente legittime all'avvio della procedura di gara. Che poi nel frattempo passi l'emendamento che personalmente insieme con il mio responsabile dell'ufficio ragioneria e il dottore Sonidio abbiamo preparato per una modifica della norma nazionale che pone il limite al costo del personale di cui parlavo e che è stata fatta proprio dal lancio e quindi potrebbe passare. Quindi se passa questo emendamento, se nel frattempo in serie di trattative sindacali si trova una diversa soluzione sul costo del personale, se magari tutto ciò è facilitato da un passaggio intermedio di raffinamento del servizio o al consorzio ecoambiente, sono tutte variabili sul tappeto, allora potremmo raggiungere l'obiettivo finale di conservare il servizio alla nostra partecipata. La seconda tematica riguarda l'ospedale, ma su quella e sul ritorno del Santa Maria dell'Olmo nella rete dell'emergenza il sindaco sembra più tranquillo. Un decreto del commissario straordinario pubblicato sul BURC del 22 luglio scorso, quindi pochi giorni fa, praticamente non compende a cava fra i presidi ospedalieri che si trasformano in SPS, cioè in strutture che hanno la funzione di tipo poliambulatoriale, come per esempio è previsto per Castiglione dei Genovesi, per Rocca d'Aspide, per Oliveto Citro, per Agropoli, anche se c'è la sospensiva del TAR. Quindi questo già è un dato positivo. La dottoressa Lenzi ha assicurato a me e all'onorevole Baldi di recente che i cento posti letto saranno inseriti nell'atto aziendale, insomma ci sono le prospettive per continuare a monitorare la situazione con attenzione ma per essere sereni.